Ciao a tutte e bentornate in questo nuovo video. Oggi andremo a stendere insieme i semi permanenti di Special Nails. Nello scorso video vi avevo mostrato la stesura dei gel color e gel painting, oggi invece sono rimasti i semi permanenti. Perciò vi mando un grosso bacio e vi lascio la stesura dei colori. Grazie a tutti. 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 eccoci qua stesura completata come avete potuto notare sicuramente questi semi permanenti sono veramente validi posso dire che praticamente tutti sono già belli che coprenti alla prima passata con una sola passata il verde come avete notato la prima passata lasciava qualche alone qualche striscia ma con la seconda si è aggiustato sicuramente tutto come potete vedere non è trasparente cioè non si intravede ed è molto carino questi sono appunto i sette semi permanenti che ho acquistato io più l'omaggio che questo la differenza con l'omaggio se vedete una linea diversa l'ho trovato leggermente più liquido però lo stesso modo vedo che mi aspettavo fosse meno coprente invece no è stato coprente soddisfacente già la prima passata quindi questo era tutto quello che avevo da mostrarvi con questo video concludo gli acquisti di special nails vi ricordo che fino al 31 di maggio inserendo il codice sconto alexandra nails scritto in maiuscolo tutto attaccato avrete 10 euro di sconto su una spesa minima di 50 questo era tutto quello che avevo da dirvi io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze